Siamo da poco bussato. Sì, anche. Oh, va che hai buttato via un'altra cosa? Metti nel sacco. Va che hai buttato via un altro rifiuto? È una moto. È una moto. Sì, non va perché c'è la frizione completamente andata. Adesso ti facciamo fare le rive lì sotto del coso. Che cavolo. Ma là c'è un rifiuto speciale. Quello è il rifiuto speciale dell'epoca. Non c'è ancora la targa. Direi di sì, tanto. Sì, sono arrivati fino a qua. Facciamo la foto di Rito. Bravo.